Buongiorno, benvenuti. Questa è la segna stampa di oggi, 19 febbraio. Quali sono le notizie fondamentali della giornata? Ovviamente tutto quanto quello che ruota intorno a Matteo Salvini e all'aggiunta per le autorizzazioni a procedere. Devo dire che sembra di stare in un film, perché se tu pensi che un ministro di un governo rivoluzionario del cambiamento sia stato indagato dalla magistratura e abbia rischiato di sottoporsi a un processo che lo vedeva possibile e passibile di 15 anni di carcere e questo governo del cambiamento nella sua maggioranza è stato esentato dal giudizio dei magistrati, cioè non è stata concessa l'autorizzazione a procedere così come se fosse, non so, un qualsiasi esponente della prima repubblica e questo in realtà ministro degli interni Salvini e questa maggioranza è guidata, il capogruppo di questa maggioranza è dal cosiddetto senatore Gianrusso, avete presente Gianrusso chi è? Beh insomma allora dite beh vabbè non cambierà mai nulla, ma non cambierà mai nulla forse perché quando ci si trova a governare ci si rende conto quali sono le leggi normali della governabilità in questo paese, cioè che quando governi immediatamente i magistrati hanno un'attenzione nei tuoi confronti un po' superiore rispetto a quella che ti saresti immaginato nel passato e vuol dire che questo è come dice un altro Gianrusso, quello che ho avuto in trasmissione a Quarta Repubblica che la magistratura non rispetta, no non vuol dire questo, è semplicemente un dato di fatto, come un dato di fatto che il Movimento 5 Stelle ci ha fatto due palle così su onestà, 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 a me deve spiegare che non sono un grande sofisticato articolo 1, 5, 20, 96 della Costituzione, ma perché non fa giudicare un ministro alla magistratura. Io sono contento che non lo faccia, oggi c'è un pezzo favoloso sul mio sito che vi consiglio di leggere di Dino con Francesco che mi spiega perché Labonino e Compagnia Cantante dicono solo minchiate sulla mancanza di, come possiamo dire, di tutele per i politici. Ma il punto fondamentale è l'ipocrisia di un governo che ha fatto, e una maggioranza che ha fatto del giustizialismo il suo motivo di vita, soprattutto il Movimento 5 Stelle, e poi alla prima curva per non far cadere questo governo, per non togliere il culo dalle sedie in cui sono sedute, come avrebbero detto loro nel passato, non hanno concesso l'autorizzazione a procedere a un ministro che vi è più se innocente avrebbe potuto dimostrare la propria innocenza davanti alla magistratura. Sto utilizzando i loro termini, non i miei, perché io sono convinto che non doveva essere neanche indagato, esattamente come aveva chiesto la procura di Catania che voleva l'archiviazione. Poi il Tribunale dei Ministri, fatto da altri magistrati di magistratura democratica, hanno chiesto che Salvini venisse processato e che cosa fa il Movimento 5 Stelle? Non lo processa. E uno dei segnali fondamentali, oggi i giornali ne parlano tutti, fanno vedere anche le foto, sapete qual è? Che il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'interno dell'aula della commissione per la richiesta dell'autorizzazione a procedere, nega l'autorizzazione a procedere lui insieme ai suoi colleghi a Salvini dopo il referendum del Russo. Va bene? La nega! Esce da quella stanza e fa il gesto delle manette, rivolto ai componenti del PD per il papà e la mamma di Renzi che sono in carcerazione preventiva senza neanche una sentenza. Allora, vi fa schifo quel personaggio o no? Pensateci un attimo, Gianrusso, vi fa orrore, vi fa ribrezzo quando avete un solo dubbio, un solo dubbio, se votare il Movimento 5 Stelle ricordatevi il giornale di oggi e il giornale di oggi è disgustoso perché tu voti da una parte contro l'autorizzazione a procedere a Salvini, esci da quella giunta e fa il segno delle manette rivolto al PD perché c'ha il papà e la mamma di un suo ex segretario che sono in galera. Vi sembra questo il mondo in cui volete vivere voi? Non quello in cui voglio vivere io, va bene? Passi tutti, non in quello... Mi fanno orrore questi! È come quando a scuola c'era il bulletto con quella faccia che si ritrova Gianrusso, è un bulletto di scuola che noi adesso che non siamo più ragazzini, vorremmo prendere calci nel sedere. Quei bulletti che fanno il segno delle manette nei confronti di esponenti del PD che come unico problema sono compagni di partito di un uomo che ha i propri genitori in galera. E che cosa facciamo ai genitori di Di Maio che hanno fatto abusi dei dizzi? Ammesso da loro. Cosa facciamo ai genitori di Battista che hanno preso persone in nero? Ammesso da loro. Cosa gli facciamo Gianrusso con quella faccia che ti ritrova? Fai orrore! Andiamo avanti. Non capisco perché i giornali non lo dicono chiaramente. Oggi Giacchetti, intervistato dal Corriere della Sera, ha quest'idea complottista di quello che è avvenuto perché obiettivamente mette in fila alcune Giacchetti questioni riguardo... E andiamo sulla questione di Renzi. Renzi, ragazzi, mi ha licenziato dalla Rai. Io facevo un programma che adoravo, che si chiamava virus a Rai 2 e mi è stato fottuto da quella gente che Renzi ha piazzato in Rai. Posso avere una simpatia nei confronti del suo modo di far politica? No! Ma non me ne frega niente di Renzi. Mi frega del principio. Il principio è, come dice Giacchetti, radicale, che è sempre stato, come dice oggi bene nella sua intervista, garantista nei confronti di tutti, financo di Berlusconi. Beh, è stato arrestato, come sapete, il 18, perché l'abbiamo detto in diretta l'altra sera, tra l'altro alle 18.53. Vi ricordate degli arresti mai avvenuti alle 18.53? No, no, questo è un dubbio che alcuni di loro stanno facendo andare sui giornali, che questa notizia, la notiziona, scaccia quell'altra, cioè che i Grillozzi tenessero fuori dal carcere Salvini, dal processo Salvini, è stato ovviamente ottenebrato dal fatto che sia stata come notizia, perché noi giornalisti abbiamo parlato della cosa molto più grave, l'arresto dei papà e della mamma di Renzi vale certamente Russo, se non di più, come si è visto nei giornali. Orson, grandissimo a te. Beh, insomma, è stato arrestato alle 18.53, in genere la Guardia di Finanza arresta alle 6 di mattina, alle 5 di mattina, no, alle 18.53 è stato arrestato, ma il punto fondamentale che Giacchetti ricorda è che l'istanza di arresto è stata richiesta il 26 ottobre, è stata firmata, quattro mesi ci hanno messo, no? Inquinamento delle prove, pericolo di fuga, possibilità di reiterare il reato, che sono i tre motivi per cui si arrestano le persone, cioè è stato richiesto l'attebre a 26 ottobre, nel frattempo forse in tre secondi avrebbe potuto occultare le prove, perché certo l'attività era finita, quindi non ci sarebbe stata certamente la possibilità di ripetere lo stesso reato, occultare le prove, certo, scappare, la vedo difficile per i genitori di Renzi, settantenni, quindi reiterare e occultare le prove, chiedono l'arresto il 26 ottobre, sono tanto preoccupati che questi possono, ragioniamo, possano distruggere le prove, che gli chiedono l'arresto il 13 febbraio, quattro mesi per chiedergli l'arresto, ma non basta, una volta che gli hanno chiesto l'arresto il 13 febbraio passano ancora cinque giorni prima che li arrestino, cioè se uno sta provando a distruggere le prove, ma ragazzi, di che stiamo parlando? O i magistrati sono indolenti, burocratici e incapaci di evitare un reato, cioè quello di occultare le prove, oppure se non lo sono, non si riesce a capire perché ci hanno messo quattro mesi, ma questo vale per il papà di Renzi, ma come per mio padre, mia madre, mio nonno, mio bisnonno, vostra zia, per chiunque, l'amministrazione della giustizia così è orribile, mai quanto a Gianrusso, ma è orribile. Ferrara invece prende in giro, giustamente da grande difensore e anche da grande, come possiamo dire, fan di Renzi, dice, beh insomma quel comunicato in cui dici che Renzi ha massima fiducia della giustizia, smettila con queste clausole di diritto, non devi avere massima fiducia della giustizia, visto tutto quello che stiamo vedendo che sta capitando. Devo dire che dall'altro punto di vista, poi anche in Renzi c'è un po' di giarrussismo, perché Renzi è quello che è stato un orribile manettaro nei confronti dei ministri che a lui faceva piacere dare all'agonia mediatica, in questo Ferrara ha ragione, quando la signora Guidi ha avuto un problema, beh senza essere neanche indagata, l'ha fatta fuori dal Ministero del Sviluppo Economico, quando Lupi ha avuto un problema per il friglio che aveva avuto un Rolex alla sua laurea da una persona che non era opportuno che glielo regalasse, l'ha mollato immediatamente, insomma un po' ridicolo Renzi oggi, perché capisco non è che si possa mantenere sempre il rigore sul garantismo solo quando ti fa comodo, comunque la verità invece che ne ha fatto una battaglia quella di Renzi, Belpietro, Amadori che hanno tirato fuori le carte e tutto quanto, dicono quante volte i barancarottieri sono in galera, è una cosa normale, su Salvini Travaglio dice il Movimento 5 Stelle è figlio del popolo dei fax, dei girotondi, dell'Italia dei valori, cioè li ha messi tutti in fila quelli che mi stanno sulle balle alla Gia Russo, cioè quelli che la legge valgono per gli altri e non per loro stessi, vedasi il caso di Pietro, ma insomma in questo senso loro sono i veri sconfitti di tutta questa vicenda, sono sconfitti perché avrebbero voluto e immaginato un Movimento 5 Stelle alla Pizzarotti, quell'inutile sindaco di Parma che pensa di essere un grande statista, che ha detto che non si sarebbe dovuto fare il termorizzatore durante la campagna elettorale, è stato eletto per quello grazie ai voti dei grillini, poi il termorizzatore grazie a Dio l'ha fatto e adesso fa finta oggi fuori dal Movimento 5 Stelle di essere una specie di fenomeno che si permette di dire che il Movimento 5 Stelle è incoerente, lui dice al Movimento 5 Stelle che è incoerente, l'uomo che fa il termorizzatore ed è stato eletto per non fare il termorizzatore e grazie a Dio l'ha fatto il termorizzatore, saluto Laura che ho visto l'altro giorno in grande forma e spirito a Quarta Repubblica. L'altra grande notizia di giornata riguarda l'Istat e cioè non tanto ovviamente il centro di ricerca statistica ma sui dati economici che sono un disastro perché sono diminuite il fatturato, che sono i soldi, perché una cosa è la produzione che è importante, che è la proxy del fatturato, poi però la produzione la vendo e se la vendessi bene il fatturato potrebbe rimanere stabile, ipotesi dell'irrealtà. Comunque il fatturato è a dicembre del 2018 diminuito del 3,5% rispetto a novembre, cioè a dicembre abbiamo, il sistema industriale italiano ha perso il 3,5% di fatturato rispetto al mese precedente, rispetto al dicembre del 2017, cioè all'intero anno abbiamo ridotto il fatturato del 7,3% e tra l'altro questa riduzione del nostro fatturato dei ricavi dell'industria italiana, beh questo 7,3% in meno deriva in gran parte per la riduzione della nostra capacità di esportare perché ovviamente il resto d'Europa cresce meno di noi. Cos'altro c'è scritto qua che avevo scritto? Bellissimo ovviamente il titolo del giornale che dice che in realtà le fatture false di Conte e di Di Maio, cioè prende appunto e a spunto Sallusti il pezzo su Renzi e sulle fatture false di cui è accusato il papà e la mamma di Renzi, fatture più che false inesistenti o per operazioni inesistenti e dice beh ma le vere fatture false non sono quelle del papà di Renzi ma sono quelle che stanno facendo questi del governo Movimento 5 Stelle per cui il nostro governo sta andando e la nostra azienda Italia sta andando malissimo. esordio di Cardo Verdelli oggi direttore di Repubblica che dice e prende comprensibilmente in giro la battuta di Conte che diceva che questo sarà un anno bellissimo, devo dire la verità, mai battuta più infelice perché l'anno mi sembra che stia partendo dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista economico, dal punto di vista della tenuta del governo malissimo, anzi forse il solo dato positivo che non riesco a capire perché la gente e gli anonisti politici non notino, se c'è una capacità a questo governo straordinaria è la capacità nel fare compromessi, compromessi sul quota 100, compromessi sul reggio di cittadinanza, compromessi, sono riusciti a fare un compromesso straordinario sulla cosa più importante per il Movimento 5 Stelle, cioè onestà, 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 non danno l'autorizzazione a procedere a un componente del governo per una roba per cui se era così sicuro l'avrebbero potuto assolvere, io sono contento che non l'abbiano fatto ma è un compromesso rispetto alla loro storia di vent'anni fa, di dieci anni e chi non lo capisce è un cazzone e poi ultima vera cosa che vi racconto oggi Michelle Utsinger intervistata dalla Corriere della Sera, vedete l'intervista è anche gustosa perché spiega qual è stato il suo rapporto con Celentano che doveva fare questa grande manifestazione su Canale 5 che per provvisosamente è interrotta, io non parlo delle cose di Mediaset se no mal me ne incoglierebbe, si tratta pur sempre dell'azienda per la quale io lavoro e che non solo mi retribuisce ma che io adoro, quindi non voglio entrare nel merito delle questioni, l'ha detto che non si presentava eccetera, ma una cosa la devo dire a Michelle Utsinger che si lamenta del fatto che all'interno del cartone animato, tre ragazze avvenenti nel cartone animato non vengono, come possiamo dire vengono importunate da dei cattivoni che vorrebbero forse violentarle e arrivano a casa e Adriano nel cartone animato e dice beh la prossima volta state per favore attente, bevete di meno e non fatevi trovare in quella condizione con altre persone e lei dice Michelle Utsinger è una situazione agghiacciante, è una battuta sessista, allora a me mi viene veramente mi viene A, si tratta di un cartone animato, B, si tratta di una finzione, C, potrebbe anche essere una, come posso dire, una battuta come quella, cioè se c'è un omicida in un film non l'ha ammazzata veramente la persona, se c'è un mostro con un'ascia non la sta uccidendo veramente quella persona, se c'è uno che ha un atteggiamento egoistico in un film, non so Michael Douglas è un po' egoista, non avviene veramente nella vita, se c'è lei che ti cucina il coniglio all'interno di una pentola perché ti vuol far vedere quanto tu sei stato antipatico con lei, non si tratta di un atteggiamento vero, non sta avvenendo Michelle nella vita quella roba là di bruciare il coniglio, un animalista non se la può prendere perché non avviene, quindi se questa è una battuta all'interno di un cartone animato non si può considerare una battuta, se io fumo, se io mi drogo, non è vero, è un fatto che è un film, è una fiction, è un cartone animato, aperta e chiusa la parentesi, ma anche se non fosse un cartone animato, il fatto che una donna conviene che non sia ubriaca, che non giri di notte ubriaca, è normale come un uomo, come una bambina, come una persona normale, no, non è che giustifica il fatto che venga violentata, anzi non lo giustifica per niente, è semplicemente una precauzione perché quelli che girano, non con le auto blu, non con le macchine, non con le scorte, non con gli agenti, ma che prendono la metropolitana, sanno che devono stare piuttosto attenti e girare magari anche col peperoncino durante la notte, o no, perché non mi riesce a seguire, qualcuno non mi riesce a seguire, buongiorno Nicola e saluto Anna Maria che mi saluta e Silvia che dice sano realismo, direi che per oggi è tutto e vi do appuntamento sul mio sito dove ci sono tantissime cose, ho intenzione di pubblicare una roba su quello che è avvenuto in una radio RAI e sulla giustificazione dell'antisemitismo in una radio RAI, più tardi lo farò, che vi farà venire i brividi e la giornalista di prima pagina che ascoltava questa vicenda di antisemitismo se ne fotteva, anzi dava ragione all'ascoltatrice, peraltro ebrea, che diceva delle cose allucinanti sull'attacco a Parigi del filosofo ebreo che aveva l'unico difetto di essere ebreo. Ciao!